Oggi preparo cheesecake senza cottura, un dolce fresco e buonissimo per l'estate che si prepara in poco tempo. Ora vi elenco tutti gli ingredienti. Per questa ricetta ho usato 75 grammi di biscotti secchi e li ho ridotti in poltiglia, poi 40 grammi di burro l'ho fatta sciogliere al microonde. Versate i biscotti secchi in un piatto e unite anche il burro fuso. Preparate una base di biscotti secchi e appiattite. Poi in una pirofila mettete 250 grammi di mascarpone, 220 grammi di formaggio spalmabile, 100 grammi di zucchero a velo. Bischiate bene tutto col frullino. In un bicchiere d'acqua mettete ad ammollare 8 grammi di gelatina. Una volta che sarà ammollata fate sciogliere in due cucchiai di latte caldo. Bischiate bene tutto con un frullino, sistemate la crema all'interno dei pirottini, livellate bene, aggiungete anche la marmellata, poi andranno in frigo per un'ora. Se vi è piaciuta la ricetta commentate anche con una sola faccina.